Bene, adesso ci troviamo nella seconda parte ed ora andremo a versare l'olio nella friggitrice Allora Questa Dato che dentro ci va circa, al minimo, un litro e uno Massimo un litro e mezzo Allora, adesso Versiamo Non si riesce a vedere perché purtroppo adesso è un po' buio E ora mettiamo anche un altro po' Ok Poi Ora la accendiamo a 170 gradi Per vedere Perché è quella la temperatura impostata E ora Dunque Andremo a infilare il cestello E metteremo Nel cestello le polpettine E ora Poi Mettiamone circa 4 per volta Ora chiudiamo E ora aspetteremo che Che sia Fatto perché Perché si spenga questa lucina E poi dopo di che potremmo abbassare il cestello E ora Dunque Poi Ora Stacco un attimo il video perché Perché Sta per finire la pila La metto un attimo in carica E ci vediamo alla terza parte